Sono davvero, davvero felice e onorata di poter presentare quest'anno il concerto del primo maggio. È una data importantissima per noi e soprattutto il concerto ha sempre dato spazio e voce ai giovani, l'ha fatto con me, è stata letteralmente la mia rampa di lancio due anni fa. Spero lo possa essere per altre persone quest'anno e sono sicura che ascolterete tantissimi discorsi, tutti molto belli, tutti molto diretti e funzionali e soprattutto tantissima musica bellissima. Quindi vi aspetto a Roma. Ciao a tutti, ci vediamo il primo maggio dal palco del concertone al Circo Massimo per divertirci, stare insieme, ma anche per ricordarci che i diritti dei lavoratori e la qualità del lavoro sono fondamentali perché uno Stato, un Paese, siano veramente felici. Ciao ragazzi, sono molto emozionato e felice di dirvi che quest'anno sarò uno dei due conduttori del primo maggio, insieme a me ci sarà una donna, un'artista fantastica, Noemi. Vi aspettiamo dal Circo Massimo e viva il primo maggio, ascoltiamo il futuro. Sono felicissima di annunciarvi che quest'anno presenterò il primo maggio nella cornice meravigliosa del Circo Massimo a Roma. Insieme a me un cantautore incredibile e un mio amico, Ermal Meta. Vi aspetto a Roma il primo maggio. Ciao, sono Rosvillen e sono felicissima di comunicare che anch'io sarò al concertone del primo maggio a Roma, al Circo Massimo, non vedo. Ciao, ciao a tutti, sono felicissimo di essere ospite del palco del concertone del primo maggio a Roma. Ci vediamo il primo maggio. Ciao, sono Marika e vi aspetto il primo maggio sul palco del concertone.